Sì, è venuto fuori inaspettatamente, sono dovuto entrare in campo e mi sono fatto trovare pronto, ho fatto quello che dovevo e sicuramente sono contentissimo anche di essere riuscito a portare questo punto comunque importante a casa. Siamo rimasti compatti ma allo stesso tempo abbiamo avuto due azioni importanti, comunque la nostra partita è stata quella che dovevamo fare sia in difesa con un uomo in meno sia poi nelle ripartenze, quindi si è stati bravi penso dall'attaccante al difensore a rimanere compatti e poi ripartire forti. Certo è una competizione ma non la sentiamo così, è qualcosa che ci aiuta tutte e due a fare il meglio di noi nella settimana e oggi ho avuto l'occasione, il mio compito era di farmi trovare pronto e l'ho fatto e da settimana prossima vedrò di continuare e provare a conquistarmi il posto. Francesca è uno dei portieri più forti con cui abbia giocato e per me è comunque una bellissima competizione, una bella sfida adesso riuscire a tenere il passo con quello che stavamo facendo all'inizio del campionato ma cercherò di farmi trovare pronto e impegnarmi il più possibile per difendere la porta del Chieti.